Amici di Aren benvenuti in un nuovo video della Master League alla terza giornata del torneo Nicole Thiem affronta a scuola guida bianca La squadra Maia Scura ha perso le prime due partite Mentre è stato percorso netto fino a questo punto per gli arancioni E parte subito con il piede giusto la formazione scuola guida bianca Grazie al gol di Di Lorenzo a due passi dalla linea di porta Sorrentino risponde alla rete con un bel destro piazzato Paradiso non ci arriva e si fa battere Ristabilita la parità ma dura molto poco Sale in cattedra di Napoli con un 1-2 micidiale Prima lo scavetto a superare Esposito Poi l'incursione in area tricore ed il colpo sotto ravvicinato Risponde Nicole Thiem su una rimessa ben battuta Sorrentino prova il destro dal volo Ma il pallone finisce alto sopra la traversa Complice anche la deviazione Nella seconda frazione non c'è storia Prima segna di Napoli su un bel cross basso a tagliare l'area di vigore Successivamente Nunez realizza una doppietta meravigliosa Il primo gol su pulizione impossibile da respingere A pochi minuti dal termine Nunez si coordina al volo e calcia di precisione con il portiere in uscita L'attaccante della scuola guida bianca trova una bellissima rete Chiude definitivamente il match al Pineta Tra Nicole Thiem e scuola guida bianca Finisce 1-7